Un pullman con 40 frati cappuccini sta percorrendo una strada di montagna ma a un certo punto l'autista ha un colpo di sonno e questo pullman precipita in fondo ad un dirupo e muoiono tutti, allora in piena notte si presentano tutti e 40 sti cappuccini alle porte del paradiso bussano, apre San Pietro tutto un sonnolito ma chi siete voi? San Pietro aiutaci, facci entrare in paradiso, ti prego siamo morti poco fa, siamo in 40 frati cappuccini e San Pietro ho capito ma noi a st'ora mica facciamo gli ingressi, aspettate un attimo che devo andare a sentire il padre eterno insomma San Pietro va dal padre eterno che sta ancora dormendo, lo tocca e gli fa oh padre te, padre te, se svegli al padre eterno chi è? oh chi è a st'ora? padre te, senti, qua fuori ci stanno 40 cappuccini, il padre eterno e chi cazzo ha ordinati?